Adesso devi mangiare lo scorpione, non interessa. Io porto un cliente per te. 100 bar. I primi italiani che mangiano lo scorpione. Buon appetito, mettici un po' di formaggio. Buono, come le patatine fritte, uguali. Uguale? Gosto, come le patatine? Buono anche per me, sono ascendente scorpione. Ah, anch'io sono ascendente scorpione. Ma io l'ho già provati prima, sono che non mi piacciono a me. Così sul suo video, lo vengo a mangiare. Dai dai, mangi il culo. No, no, lui preferisce la pasta. Perché lei è buona? Prova dai. Vedi, ne patatine. Dai le bombe. E' buono? Non male. Buono. Croccante? Piccante? Croccante. Ah, croccante. Buono. 100 euro. Buono, buono. Buono, buono. Ma io l'ho già provato, non mi piace. No, speriamo sia croccante anche. Sì, ho lì. Non ne vuoi più, non ne vuoi più. Ho paura che sia morto. Mangia. Fa bene la salute. Diventa uno scorpione anche tu diventi. Diventa uno scorpione anche tu diventi. Vedi dei moschettieri. Meglio delle cavallette. Meglio? E delle larve quelle grandi. Ah, meglio. Ah, buono. Meglio. Ok, dai, posto. Mi dispiace ragazzi, ma io preferisco mangiarmi un bel piatto di pasta. Anzi, vado proprio adesso a mangiarmelo. Alla faccia di quelli che si mangiano gli scorpioni. Eh. Video. Ok. No, foto. Ah, no, foto. Ah, no, foto. Do you like? Do you like? I like. Ok. Do you like? Basta. Pasta, basta. Voglio la pasta, voglio. Basta, basta. Mangiare pasta. Dai, prepara. Eh, che caldo che fa. Ah, guarda, mi devo prendere una thailandese così mi rinfresca. Grazie. Dopo fare anche massaggio Thailand. Thailand massaggio? Thailand massaggio. Grazie, grazie. Oh, che bella l'aria. Oh, che bella l'aria. Grazie, grazie. Ciao. Ho un uomo molto ricco per te, da Cina. Ah. Tu vuoi marriere te? Marriere te? No. 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 Thailand, brother. Vabbè, brother, Thailand, China, the same, no. Thailand, China, I like China. No, Thailand, China, no eh. No like? No like. No like? No like? No like. Better Italian, no? Italian. Eh. I like Italian. Ah, ok, good. basta stavo dicendo ho un uomo cinese che vuole sposarti e lei risponde no grazie perché no non siete simili siete uguali no voi italandesi con cinesi uguali simili lo dicevo così per scherzo lei dice no 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 io ho detto allora cosa è meglio meglio un italiano lei fa sì ok siamo apprezzati vediamo il resto allora cosa abbiamo di buona mangiare oli butter pasta salmone pasta salmone questa qua basta cremo shroom che è stamusero alla panna saranno so vedetemi voi basta bolognese cosa ordino basta bolognese ravioli buoni basta oliva e butta se basta se put a pesce basta 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 non meto l'ora di mangiare c'ho una fame mi sono le otto di sera da ieri che non mangio certo from yesterday I know it 8 a clock from yesterday vediamo un po, finalmente, un bel piatto di pasta perfetto grazie grazie mazzo sembrano appetibili, buone grazie il ventilatore è apposta per me, grazie, grazie brava è pronto da mangiare? grazie ancora si sta da dio, benissimo col ventilatore, che servizio buone, buone con la salsa di scoppione è ancora più buona, no scherzo con i funghi qua la salsa con i funghi è buona dopo tanto tempo un piatto di pasta ci vuole buone 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 ora lasciatemi mangiare tranquillo vi saluto saluto a tutti quelli che mi seguono mettete un mi piace mi raccomando iscrivetevi al mio canale che ho bisogno grazie vai DJ David Lacoste